Siamo nella sede di Take Group, questa volta per parlare di Red Farm con il CEO Paolo Mauro. Red Farm è una società che ha subito un'evoluzione negli ultimi anni, passando da essere una società di produzione video a una digital content company. Quindi partiamo dal parlare di questo percorso che avete intrapreso. Sì, certo. È stato un percorso abbastanza naturale. A me piacerebbe innanzitutto chiarire cosa vuol dire digital content company che non è così scontato. Noi abbiamo avuto un approccio sempre più integrato al digitale e questo ci ha permesso di considerare il prodotto che inizialmente era il core della Red Farm 1.0 che era proprio l'audiovisivo come una delle tipologie di contenuti che oggi invece riusciamo a realizzare e erogare sui progetti per i nostri clienti. Diciamo proprio che l'anno che si sta chiudendo è stato fondamentale perché sono cambiati i progetti che sono diventati sempre più complessi e fondamentalmente siamo partiti dalle strategie di comunicazione. Chiaramente all'interno della strategia di comunicazione l'audiovisivo ha sempre un forte valore. Dalle strategie siamo arrivati proprio al perfezionamento di piattaforme digitali e tra questi piattaforme digitali in quell'ambito abbiamo toccato argomenti come la gestione dei processi paperless e la corporate communication. Immagino che questa evoluzione vi abbia anche spinto a integrare nel vostro team figure un po' diverse rispetto a quelle che vi lavoravano prima. Sì, certo l'evoluzione è stata diciamo importante proprio perché grazie a queste risorse siamo riusciti a evolvere anche così rapidamente. Abbiamo introdotto risorse altamente specializzate affiancate da strumenti altrettanto specializzati, specialistici. Siamo partiti con lo sposare una filosofia che è la filosofia agile che è diventata un po' il valore di Red Farm ma non solo di Red Farm, di tutto il gruppo, ormai tutto il gruppo TAKE lavora con dei processi fully digital e l'introduzione di strumenti come una Kanban board per il project management, una chat che diciamo ci consente di parlare e automatizzare gruppi di lavoro e processi. hanno gestito diciamo, hanno fortificato ulteriormente e hanno rafforzato efficientando diciamo proprio il processo ma soprattutto il processo di crescita che è alla base oggi della nuova Red Farm e del gruppo. Il fatto appunto di appartenere al gruppo TAKE che comprende società di vario tipo, quanto conta per voi? C'è uno scambio con le altre strutture in termini di attività e anche di clienti? Allora, è certamente molto importante, non è solo importante farne parte ma è importante sentirsi parte del gruppo e probabilmente io lo vivo un po' più come azienda, come azienda che coopera con le altre aziende del gruppo su diversi clienti. La cosa bella secondo me è invece come viene vissuto e come viene raccontato dai nostri dipendenti questa cosa e la raccontano come un privilegio, è un privilegio perché c'è un fortissimo grado di cross fertilization, abbiamo continui scambi di skills, di professionalità perché abbiamo tanti professionisti che lavorano in ambiti diversi, i progetti si sono complicati, si sono ingranditi e abbiamo tante figure differenti con professionalità verticali che generano momenti formativi spontanei. Siamo in chiusura d'anno, quindi domanda di Rito, come è andato il 2016 per Red Farm? Allora, il 2016 è sicuramente andato bene, è andato secondo le nostre aspettative. Noi diciamo che negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita costante, il nostro fatturato cresce mediamente del 25-30% ogni anno e anche quest'anno possiamo confermare questo dato, quindi insomma, bene direi. E invece per l'anno prossimo che obiettivi vi siete dati? Sicuramente andare a confermare questo trend di crescita sarebbe bellissimo ma sarebbe ancora più bello traguardarlo e superarlo e questo in termini sempre di fatturato. Il 2017 io lo vedo un po' come l'anno della svolta per Red Farm in qualità di uno degli attori nel comparto in termini di autorevolezza dimostrando proprio di essere una digital content company pronta e evoluta. Invece guardando al settore in cui operate, secondo te come sta evolvendo? Quali saranno i principali trend che vedremo emergere nei prossimi anni? Allora, probabilmente parlo ancora di digital ma l'andamento e l'evoluzione è lì. Ormai tutto è digital, ormai un'accezione positiva del termine. La digital transformation ha trainato, ma non possiamo più neanche parlare di digital transformation. Ormai è una natural transformation. È un percorso obbligato che tutte le aziende devono fare. C'è chi lo ha iniziato, c'è chi lo sta iniziando, c'è chi lo sta facendo magari anche nel modo sbagliato. Quindi io quello che vedo è la possibilità di forte ondate di consulenza strategica in questo ambito che possono arrivare dal nostro comparto verso le aziende e sicuramente questo garantirà uno sviluppo e degli investimenti per l'innovazione sia della comunicazione che del marketing digitale. Ringraziamo Paolo Mauro per Advia Express TV, Serena Piazzi.